ormai che siete venuti in questo nuovissimo video oggi siamo qua su viva pinata è partito diretto ok allora andiamo subito nel nostro bellissimo giardino nuovo comunque vediamo un pochino oggi che cosa vorrei fare allora vorrei intanto diciamo fare una casa ai nostri uccelli e in più vorrei provare a far stanziare un coliglio vediamo un pochino che succede fino in teoria loro dovrebbero essere tutti e due in amore in teoria sì infatti però dovrebbero avere una casa quindi andiamo un attimo a vedere il bello villaggio in teoria questo qua ok perché comunque non ci ho mai provato in realtà anche nel mio villaggio mutuovi non ho provato a far i figlietti a questi bellissimi uccelli quindi oggi è gigante diciamo qua sì ok quindi adesso in teoria comunque dovrebbe venire e va bene questi tutti quanti stanno dormendo questo qui stanno bucciando dai abbiamo messo un fioritino mi sembra no però non so vabbè mettiamo tempo al tempo oh sto l'izio che ci dà i semi sì sì non mi interessi di quello che dici è anche una parpalla quindi informazioni vorrei vedere ok ho una luce nel giardino requisiti stanziali a 1 quindi in pratica in teoria forse potrebbe anche stanziarsi sto chiedendo cioè che tipo di fiore è il disegno su questo semi sono tre puntini di colore brillante come se all'interno ci fosse qualcosa di incandescente l'unica ma se vedi peperoncino rosso e non so se fa bene i nostri sì eccola eccola eh sì ok è detta sostanziale il collo la farfandica ok poi vediamo anche la casetta per lei un'intanto questo facciamo un bocchino e proviamo se poi fa male non lo so ok piano piano oh ok questo intanto sta anche costruendo ok poi sono un sacco di carote poi non so se 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 non si ccoccocco un coniglio dai coniglio e che è tutto per helmet o ok ha completato onicamente o edificiano cccola vedi hai una nuova visitatrice bunnycomb una carota è un richiamo irresistibile per la bunnycomb fanno crescere una e presto ne vedrai una in giardino bene bene ok anche questo adesso vediamo un pochino bene eccola qui quindi adesso possiamo intanto guardiamo dentro e vediamo un pochino come è questa casetta per gli uccelli accogliente direi con una molletta gigante vabbè tipo dettagli potenti ok quindi proviamo a chi cavolo è? ah oddio è questo più groncino ok no tipo un cavoletto di cos'è ok quindi adesso sì abbiamo anche dov'è dov'è? dov'è? eccolo eccolo sì è diventato stanziale ok quindi in pratica siamo anche riusciti a farlo stanziare la mia marina perfetto no 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 muori 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 ah ok ok lo ha fatto schiacciare tutta la zucca soffi a... ok ora ho anche il film del fiore bene? ehm no quando adesso vi in teoria hanno tutti i visiti dovremmo riuscire ma già dov'è? dov'è quell'altro...oh mannaggia perché non collaborano per niente qui? ok adesso posso... dirigere qua no salto da fuoco bene forse anche i piano fatto forse siamo riusciti sii vicino a prendermi vada ok bene bene attenzione qui sono qua per i casino ecco qui ok vediamo un pochino quale danza faranno anche per fare i nomi bene allora andiamo a vedere appena arrivano ok vai andiamo subito a vedere vediamo che succede che non c'è mai provato veramente oddio ecco lui oddio che cosa è successo è rimasto incastrato oddio tipo stanno sbattendo poi rimangono incastrati che sta succedendo non lo so ok quindi ok adesso in giuria dovrebbero non so come funziona come funziona sta cosa insomma con i biglietti non so portano uovi come agli altri non so non so non so queste che mi sto stavolando in aria cioè sto rimanendo sospesa ehm in pratica che è successo l'ho consegnato oh eccolo qui anche allora aspettiamo che si schiuda e io vorrei vedere questo peperoncino in realtà a che cosa serve cioè che in pratica cosa fa fa stanziare un animale la piatta deve essere se non ci interessa la peperoncina rossa per quello dei campion dei pompieri solo che quest'ultimo gli incendi rispegne la peperoncina li fa scoppiare nella bocca di chi e così fa se lo mettiamo ok e in pratica a che cosa serve vabbè comunque noi intanto facciamolo rimanere qui poi vediamo che succede ok forse sta arrivando anche un altro ne arriva un altro raga bene sono felice perché magari ne abbiamo due e vediamo anche come fare i fighetti anche a questi almeno magari li facciamo anche fare in la casa forse forse diventa stanziale anche questo dai oh ha mangiato la carota eh che ah ha mangiato tre carote eh oddio ok bene 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 allora eeeh emporio si emporio andiamo a comprare altre e qualche insomma carota si si voglio comprare di carota di carota ecco qua si si ne voglio comprare un bel po' uno due tre insomma qualche l'uno paga paga ok ok ah ok mi fa già posare lei ok in modo che vediamo dai devono crescere adesso se no se no questo se ne va io non voglio che se ne vada si è stanziale è stanziale si 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 è stanziale anche questa bello si è schiuso oddio che è carino si è vero ma qui è carino che è troppo carino oh oh anche questo farò diventare stanziale ah non ce l'ho io un marshmallow cosa? beh per il momento i marshmallow li vediamo dopo ok in pratica come facciamo a far diciamo innamorare deve mangiare una margherita o un ranucolo ok quindi qua mi sembra che questa sia una margherita dove sta? dove sta scritto? ah ok margherita quindi io direi di andare a comprare anche un'altra margherita o comunque un ranucolo quello che sia non ci importa in modo che possiamo far innamorare anche quelle vabbè prendiamo un'altra margherita a questo punto non importa ok si ok e lui la pianta bene e sta giù che non so che cosa serve di preciso che sta succedendo? che cavolo? che cavolo è? perché? che cavolo è successo? adesso è vero sì? è vero sì? eh era tipo l'ora sta chiusa? non lo so ok 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 prendiamo anche altro questo allora ci dà qualche altro l'altro ok dammi tutto se vedi grano ok comunque sicuramente ci servirà per far stanziare qualche pignata quindi intanto scaviamo un po' e poi ce lo mettiamo dentro ok se entriamo poi prendiamo l'annaffiatoio e via ok ragazzi comunque direi che possiamo fermarci a questo episodio abbiamo fatto un sacco di cose insomma abbiamo fatto stanziare due bandicam ossia due due conigli poi in più abbiamo fatto fare diciamo un figlietto agli uccelli si è stanziata anche una farfalla e questo insomma deve mangiare un topo quello che sia un marshmallow quindi comunque per quello c'è ancora tempo comunque requisito di visita vorrei un attimo vedere in modo che insomma niente non c'è scritto ok comunque ragazzi direi che possiamo fermarci a questo episodio lasciate un mi piace commentate e iscrivetevi al canale se hai ancora un'altra parte fatta ciao a tutti